il termine di caracani non si vede niente si è riprimendo? si, devo fare lo zinno un po' il movimento massimo massimo allora devi essere esaustivo siamo arrivati al circo massimo devo essere pulsino ah, esaustivo siamo arrivati al circo massimo che potete ammirare sulla nostra sinistra e stiamo proseguendo per raggiungere dopo aver superato le termine di caracalla il polo sere un pezzo, sì un pezzo della curva della curva sud che curva sud? ma si perde? la fossa dei leoni è partito? sì ok, potremmo riconoscere quindi vuol dire che siamo a Roma adri ha detto che non se lo ricordava così grande cioè io sono sediga